Non chiamiamo la festa, ma un momento di riflessione. Oggi, 8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna ricorre per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Diverse le iniziative anche nel nostro Abruzzo, mettendo in evidenza come le donne siano state fortemente penalizzate dal Covid. Soprattutto le imprese in Rosa hanno avuto un duro colpo, come si evince in uno studio della Camera di Commercio Chieti-Pescara, condotto dall'Istituto Tagliacarne e di cui ci parla Luciana Ferrone, presidente Imprenditoria Femminile dell'Ente. Ma sappiamo tutte che il ruolo delle donne è stato fondamentale in questa pandemia ed è ancora fondamentale. Abbiamo avuto donne che hanno lavorato ai smart working, abbiamo avuto donne che hanno dovuto cessare, fermare le loro attività con le gravissime conseguenze che ce ne sono state. E quindi le donne stanno come sempre reagendo, ma il problema, il momento è veramente particolare. Sappiamo tutti che adesso è ora veramente di muoversi, di intervenire massicciamente e seriamente con contributi mirati e con una formazione e un'assistenza veramente importante, veramente costruttiva. Stiamo lavorando molto sulla digitalizzazione, stiamo lavorando molto sul green, stiamo lavorando molto sulla formazione finanziaria. Le nostre micro imprese devono assolutamente essere più strutturate. Panchine rosse sono state poste nei campus dell'Università d'Annunzio a Chieti e a Pescara a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne, iniziativa realizzata dallo sportello Europe Direct guidato dalla delegata del rettore Fausta Guariello, coordinato da Annalisa Michetti. A inaugurare la panchina rossa, la prima e la più importante, quella che si trova sotto lo stemma dell'Ateneo all'ingresso del rettorato, la prorettrice Augusta Consorti. Questo processo di cambiamento che porterà finalmente a considerare le donne come persone da rispettare, sarà un processo lungo perché si deve cambiare la cultura, come ha detto lei. E per cambiare la cultura si deve capire che dove c'è violenza non c'è né civiltà né libertà. In questo percorso il ruolo degli uomini qual è? Questa è una domanda molto interessante perché gli uomini sono figli, sono compagni, sono padri, sono fratelli, sono amici e quindi deve partire da loro questo cambiamento culturale. Se non riusciamo a sensibilizzare tutti gli uomini, se non riusciamo a far capire loro che è innanzitutto un problema degli uomini, questa debolezza, una debolezza maschile che porta poi a questi episodi di violenza, se non riusciamo a sensibilizzare gli uomini abbiamo perso. Grazie. 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 Grazie.